Ben ritrovati al notiziario delle quotazioni dell'olio extravergine di oliva del 5 gennaio 2024. Mercato interno. Ripartono in rialzo le quotazioni, anche se per le festività mancano i dati di molte piazze. In evidenza la scarsità di prodotto dei maggiori paesi produttori. Spagna, Grecia, Tunisia, Marocco. Nota positiva. La situazione delle decenze d'olio a fine 2023, pur rimanendo poco generosa a confronto di precedenti annualità, segnala un miglioramento dato dall'afflusso di nuovo prodotto nella campagna di molitura in corso. In rialzo anche le quotazioni del biologico che hanno raggiunto il prezzo di 9,70 euro al chilogrammo. Elevata anche la quotazione del biologico nel mercato spagnolo. Scambi ridotti sui mercati esteri, con quotazioni elevate. La Spagna sta riprendendo una regolarità di forniture, seppur in maniera ridotta, data la diminuita produzione di olio. La differenza attuale tra i mercati italiani ed esteri si è ridotta a 0,74 euro al chilogrammo. Un anno fa era notevolmente superiore, con un valore di 1,02 euro al chilogrammo. Mercati italiani, mercati esteri, differenza. Vi ringrazio per l'ascolto, un arrivederci con il notiziario della settimana prossima. Grazie a tutti.